Si è conclusa con successo la prima edizione del Master in Politiche, Programmi e Progettazione Europea attivato dall'Università di Camerino in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche. Il corso ha ottenuto un grande successo non solo di partecipanti ma anche di raggiungimento degli obiettivi formativi che erano volti a creare professionalità manageriali nell'ambito della europrogettazione tanto che i favorevoli risultati ottenuti hanno indotto l'Ateneo e il Comune a ripetere l'esperienza con l'attivazione di una nuova edizione del Master. La giornata si è aperta con i saluti del Rettore Unicam Flavio Corradini del Sindaco di Civitanova Marche Tommaso Claudio Corvatta. I docenti del Master Marcello Pierini, Giuliano Bartolomei e il Direttore del Master Katia Eliana Gentilucci hanno poi relazionato sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti. Al termine sono stati consegnati i diplomi ai partecipanti. Attraverso questa attività formativa l'Ateneo Camerte ribadisce il suo impegno nella formazione di professionalità che operano all'interno dell'ampio ambito della europrogettazione.